Come agivano le due borseggiatrici che avete assicurato alla giustizia? Prendevano d'occhio donne, principalmente sole, che magari erano intenti nelle operazioni di caricamento della spesa sull'auto e mentre andavano a posare il carrello lasciavano anche la borsa nella macchina che risultava aperta. Loro sfruttavano questo momento per poter prelevare la borsa ed andarsene. A far scattare l'indagine, le segnalazioni da parte di alcune vittime e la piena collaborazione del personale addetto alla sicurezza del centro commerciale Iperaldipiantedo che hanno messo i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Chiavenna sulle tracce delle due manolesta consentendo l'arresto in flagranza per furto aggravato con destrezza di una 21enne cubana e la denuncia a piede libero di una 41enne argentina accusata di favoreggiamento. Le due bosseggiatrici erano due donne sudamericane, irregolari sul territorio, che si muovevano prevalentemente nei centri commerciali del nord Italia con una macchina radiata. Da alcune settimane le due sudamericane, con una lunga serie di precedenti per reati predatori, frequentavano la nostra provincia e da allora si era registrata questa singolare tipologia di furti messa a segno, in particolare ai danni di donne sole, sempre con lo stesso modus operandi. Dopo le prime segnalazioni sono scattati controlli mirati con l'ausilio di telecamere che hanno permesso di monitorare i parcheggi coperti del centro commerciale Iperaldipiantedo gettando la rete nella quale le due donne sono ben presto rimaste intrappolate. Ce l'aspettavamo che potessimo trovarle in flagranza, anche perché era un sabato pomeriggio quindi si presupponeva fosse un momento di massima affluenza del supermercato, quindi un momento appetibile anche per le due ladre. Perciò di conseguenza abbiamo utilizzato una pattuglia in borghese all'interno del centro commerciale che faceva un po' sorveglianza e ci siamo avvalsi anche delle telecamere per poterle cogliere in flagranza. Quanti furti sono riconducibili a queste due donne? Sicuramente con l'infragranza, ne abbiamo individuato un altro grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza e altri sono al vaglio. Per la 21enne esecutrice materiale del furto è scattato l'arresto con la reclusione nel carcere Bassone di Como deferita in stato di libertà l'amica complice. Entrambe, irregolari in Italia, sono state denunciate per violazione della legge sull'immigrazione. Molto importanti sono le segnalazioni dei cittadini che si possono valere del numero unico 112 per eventualmente segnalarci qualche episodio simile. Ed un consiglio è quello comunque di tenere i propri averi e i beni di valore con sé.